Cari amici, oggi vi presento un racconto avvincente che riflette sulla complessità dell'amore e dell'equilibrio interiore. In questo video, esploreremo la storia di Mei e Kaito, un'emozionante narrativa che ci insegna importanti lezioni sulla dualità dell'amore, sull'accettazione delle nostre imperfezioni e sulla ricerca di armonia nel vuoto della vita. Vi invito a iscrivervi al canale per esplorare storie coinvolgenti come questa e adesso, prima di immergerci nel racconto, vi chiedo gentilmente di lasciare un like per supportare il canale. Senza ulteriori indugi, lasciatevi trasportare da questa storia straordinaria e scoprirete le profonde lezioni che si nascondono nel suo intreccio di emozioni e saggezza. Buona visione. In un villaggio circondato da montagne maestose, viveva una giovane donna di nome Mei, la cui anima danzava tra l'amore e il tormento. Mei era affascinata dal potere dei fiori di loto che si stagliavano, puri e incontaminati, sulla superficie del lago del villaggio. Ogni mattina, lei si avventurava lungo il bordo del lago, ammirando la delicatezza dei petali di loto che si sollevavano leggeri sopra l'acqua serena. Mei incontrò un giovane pescatore di nome Kaito, il cui spirito era avvolto da un'inquietudine profonda. I suoi occhi riflettevano il tumulto di un mare in tempesta, ma il suo cuore custodiva un'innata saggezza, simile al silenzio del lago nelle notti serene. I due si trovarono legati da un amore tormentato, come l'intreccio dei rami di un albero che lottano per trovare luce nel fitto della foresta. Kaito, con il suo spirito tempestoso, rappresentava la dualità, il chiaro e l'oscuro, la calma e la tempesta. Mei, invece, incarnava la purezza dei fiori di loto, la ricerca del vuoto e della pace interiore. Il loro amore era come un tramonto che si scontra con un'aurora, due forze opposte che si attraggono senza poter fondersi completamente. Il villaggio raccontava storie di questo amore, ognuno forniva la propria interpretazione, poiché la verità è soggettiva come il riflesso mutevole della luna sull'acqua del lago. Alcuni vedevano la passione travolgente, altri la struggente malinconia di due anime destinate a una connessione incompleta. La giovane Mei cercava risposte tra le acque cristalline del lago. Osservò i fiori di loto che affioravano dal fango, rivelando la loro bellezza pura nonostante le radici affondate nella terra oscura. In quei momenti, Mei comprese che la dualità dell'amore poteva coesistere, la passione e il tormento, la gioia e la sofferenza, come il chiarore della luna e l'oscurità della notte. Kaito, dal canto suo, scrutava l'orizzonte ogni sera, mentre il sole si gettava dietro le montagne. Vedeva il cielo dipingersi di sfumature ardenti, simili alle emozioni contrastanti che lo abitavano. In quelle visioni, Kaito realizzò che la vita è una danza di colori e sfumature, una sintesi di contrasti che si fondono nell'armonia dell'esistenza. Gli elementi naturali, come il lago e i fiori di loto, diventarono metafore della loro storia. La natura, con la sua saggezza millenaria, insegnava loro che l'amore non è una strada lineare, ma un sentiero tortuoso tra le montagne e le valli della vita. Un giorno, un vecchio albero di ciliegio, testimone silenzioso della loro storia, lasciò cadere un petalo vicino ai piedi di Mei. Era come un dono del destino, un segno di saggezza dell'universo. Quel petalo, delicato e fragile, le sussurrò che l'amore e il tormento erano due facce della stessa medaglia, la luce e l'ombra che si completano a vicenda. Mei e Kaito compresero che il loro amore non era destinato a sciogliersi in una fusione perfetta, ma a danzare nella dualità, come il loto che fiorisce nel fango. Accettarono che la loro unione tormentata fosse un viaggio attraverso la bellezza e la sofferenza, una danza nell'infinito ciclo della vita. Così, Mei e Kaito continuarono a passeggiare lungo il lago, osservando i fiori di loto che galleggiavano, consapevoli che la verità dell'amore è come la brezza che accarezza la superficie del lago, invisibile, mutevole eppure presente in ogni singolo respiro della vita. Una notte di luna piena quando Mei e Kaito si ritrovarono sulle sponde del lago, in un momento di silenzio contemplativo. I raggi argentei della luna danzavano sulla superficie dell'acqua, creando un sentiero luminoso. Mei guardò Kaito, i suoi occhi erano come stelle cadenti nel cielo notturno, pieni di domande senza risposta. Kaito, la vita è come il lago. A volte calma e limpida, altre volte agitata e tormentata. Ma anche nell'agitazione, l'acqua conserva la sua essenza, la sua purezza. Come possiamo trovare pace in questa dualità dell'amore, disse Mei, con voce dolce e contemplativa. Kaito osservò la luna riflessa nell'acqua del lago e sorrise leggermente. Mei, il segreto è accettare entrambi gli estremi senza cercare di dominarli. Come la luna, che passa attraverso fasi di piena e di oscurità, così anche noi attraversiamo fasi nella nostra vita. Accettare la dualità dell'amore significa abbracciare la totalità di ciò che siamo, senza cercare di separare luce e ombra. Mei guardò ancora una volta i fiori di loto che danzavano leggeri sull'acqua, come se comprendesse improvvisamente il significato nascosto delle loro vite. Kaito, l'amore tormentato non è un'assenza di armonia, ma piuttosto una sinfonia di emozioni che creano la melodia della nostra esistenza. Come possiamo trovare la bellezza in questa dualità? Kaito prese la mano di Mei e la portò vicino al lago. Entrambi si inginocchiarono e, con delicatezza, raccolsero un fiore di loto. I loro polsi si toccarono, e nel silenzio della notte, sentirono il palpito della vita che scorreva attraverso i loro cuori. Mei, la bellezza non risiede nella perfezione, ma nell'accettare la realtà come essa è. Come il fiore di loto, che cresce dalle profondità del fango per sbocciare con splendore, così anche noi possiamo trovare la bellezza nell'abbracciare le nostre imperfezioni e accettarci l'un l'altro senza riserve. Con un sorriso, Mei e Kaito posarono il fiore di loto sull'acqua, lasciandolo galleggiare via. Guardarono il fiore mentre si incamminava sulla superficie del lago, simile a un viaggio di scoperta e di accettazione. Quella notte, accettarono la dualità dell'amore come parte integrante della loro storia, una storia che non era completa senza alti e bassi, senza gioia e dolore, senza luce e oscurità. Nel silenzio della notte, mentre il lago rifletteva il cielo stellato e i fiori di loto danzavano leggeri sull'acqua, Mei e Kaito compresero che l'amore tormentato era un viaggio di crescita e comprensione reciproca, una danza eterna tra due anime che si erano intrecciate nella tessitura del destino. Così, nell'abbraccio della notte, Mei e Kaito si lasciarono trasportare dalla corrente della vita, consapevoli che nella dualità dell'amore, il vuoto e la pienezza potevano coesistere, creando un'armonia che va oltre le parole e che si manifesta nell'eternità del presente. La storia di Mei e Kaito, intrisa di amore tormentato, ci insegna delle preziose lezioni che possiamo applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Questo racconto è come uno specchio che riflette la complessità delle nostre relazioni, dei nostri sentimenti e della nostra ricerca di equilibrio interiore. Ci parla di dualità, di vuoto e di come accettare la realtà per trovare la pace. Innanzitutto, riflettiamo sulla dualità dell'amore. Come Mei e Kaito, spesso sperimentiamo una gamma di emozioni contraddittorie all'interno delle nostre relazioni. L'amore può portare gioia e dolore, tranquillità e turbamento. Accettare questa dualità è il primo passo per una connessione più profonda con gli altri. Non cercate di separare le emozioni contrastanti, ma accettatele come parte integrante dell'amore. La storia ci insegna anche sull'importanza di abbracciare le nostre imperfezioni. Come i fiori di loto che crescono dal fango, anche noi possiamo trovare la bellezza nelle nostre fragilità e imperfezioni. Accettarci per quello che siamo, con le nostre virtù e i nostri difetti, è fondamentale per costruire relazioni sincere e autentiche. Un'altra lezione importante è il concetto di vuoto e pienezza. La vita è un costante flusso tra momenti di piena e momenti di vuoto, come le fasi della luna. Accettare il vuoto non come un'assenza, ma come un'opportunità per riempire quel momento con saggezza, introspezione e crescita personale, è cruciale per la nostra serenità interiore. Consigli pratici che possiamo trarre da questa storia sono 1. Accetta la dualità delle emozioni nelle relazioni. Non cercare di separare gioia e dolore, ma accettale entrambe come parte dell'amore. 2. Abbraccia le tue imperfezioni. Accettati per quello che sei, con i tuoi pregi e i tuoi difetti, e accetta gli altri nello stesso modo. 3. Trova la bellezza nel vuoto. Utilizza i momenti di tranquillità per riflettere, imparare e crescere. Infine, vi invito a riflettere su questa storia e a trovare il suo significato nella vostra vita. Accettate la dualità dell'amore, abbracciate le vostre imperfezioni e trovate la bellezza nel vuoto. È in questo equilibrio che potremo coltivare relazioni più profonde e una pace interiore duratura. Vi ringrazio per aver ascoltato queste riflessioni e vi auguro di trovare serenità e armonia nel vostro cammino. Grazie per aver condiviso questo viaggio nel mondo di Mei e Kaito e nelle profonde lezioni che emergono dalla loro storia. Spero che le riflessioni sulla dualità dell'amore e sull'accettazione delle nostre imperfezioni abbiano toccato il vostro cuore, aprendo nuove prospettive sulla bellezza e sull'equilibrio interiore. Vi invito calorosamente a iscrivervi al canale per non perdere altri racconti e lezioni coinvolgenti come questa. Lasciate un like se avete apprezzato il video, condividetelo con coloro che potrebbero trarre ispirazione da questa storia e non esitate a lasciare un commento con le vostre riflessioni e impressioni. Ricordate che la vostra partecipazione sostiene il canale e ci aiuta a continuare a condividere storie significative. Vi ringrazio di cuore per essere stati qui e vi invito a rimanere connessi per ulteriori avventure di saggezza e introspezione. Grazie ancora e alla prossima!